e beh come annunciato il nuovo drone dji sta per uscire l'azienda cinese dji ha rilasciato il video ufficiale appunto di lancio nell'attesa della presentazione oggi nel giorno di pasquetta faccio due passi qua dietro a casa e vi racconto tutto in questo video le novità ma soprattutto vi mostro queste immagini davvero inedite appena uscite guardiamolo insieme come sempre mi raccomando se volete datemi un bel like perché spero che apprezzate questi miei contenuti che condivido spesso con voi e se poi non siete ancora iscritti al canale sotto c'è un bel tasto con su scritto iscriviti e che dire premetelo e unitevi a noi partiamo dall'inizio il noto sito cinese kanzhai.com sempre ben aggiornato soprattutto quando si parla di dji e cosa ha fatto condiviso poco fa un video dove appunto la stessa dji rappresenta la comunicazione che il drone air 2s è in uscita e questo video rilasciato appunto dall'azienda cinese sembra che sia trapelato prima che loro stessi lo lanciassero nella loro campagna appunto sul drone e questo come sapete non è una novità ormai perché quando devono presentare qualcosa tutto trapela e in ogni dove su fantomatici canali youtube e quant'altro e oggi ovviamente arrivo a farvelo vedere in anteprima perché ancora e queste immagini non sono in circolazione qua da noi prima di passare a però le immagini vi racconto ovviamente qualche info molto interessante su questo nuovo drone che sta per uscire della dji innanzitutto si confermano i vari dettagli sul drone e quali sono sarà presente il ricevitore adsb integrato infatti dji come sappiamo aveva annunciato che tutti i droni a partire dal 2020 sarebbero stati equipaggiati con la tecnologia air sense che vi ricordo permette ai droni di volare trasmettendo la loro posizione e anche ricevere quella di tutti gli aeromobili che sono nella nell'area di volo e di conseguenza questo sarà presente nel nuovo drone dji il drone avrà una grande ottica un sensore da un pollice da 20 megapixel come quello presente sul mavic pro 2 il che significa una maggiore qualità meno rumore se usiamo iso più alti ovvero durante il volo notturno poi una maggior gamma dinamica nelle scene dove c'è un forte contrasto tra le zone di luce e le ombre e avendo un sensore più grande tutti questi parametri ovviamente ne gioveranno nella qualità delle foto e dei video che andrà a realizzare questo nuovo drone dji dal sito cinese poi conferme che sarà compatibile con i googles v2 per volarci in prima persona come vi avevo già raccontato in questo video che vi lascio qua sopra nelle schede se volete potete andarvelo a vedere che appunto tratto proprio questo argomento rimane un forte dubbio ovvero quello relativo alla marcatura dell'asse nodo importantissimo per rendere questo drone davvero perfetto e nessuna notizia al riguardo e se da una parte faccio una riflessione a voce alta parlando con voi e penso che sia quasi impensabile che dopo aver fatto uscire l'air 2 senza su questo non ci sia dall'altra mi pare strano che non siano uscite notizie di nessun genere di nessun tipo e a questo riguardo e la cosa un po onestamente come si dice in toscana mi puzza il lancio di questo nuovo drone i rumors lo danno per il 27 aprile e non si sa se sarà realmente questa la data ma dice che uscirà dunque noi siamo pronti a vederlo e ovviamente a provarlo e dunque vi lascio al video della presentazione ricordandovi che domani su aliexpress inizieranno le vendite del mini fimi x8 e ad un costo di 254 euro ma vi consiglio di rimanere sintonizzati nel canale e aspettare a correre ad acquistarlo lì visto il costo perché vi metterò senza dubbio in guardia con un mio video su questo argomento proprio domani e vi parlerò degli acquisti e dei problemi possono nascere direttamente da questo portale cinese non mi resta salutarvi a tutti ciao da non mi resta salutarvi un buon lunedì di pasqua a tutti ci vediamo al mio prossimo video vedete domani ciao ecco il video del piccolo video la piccola presentazione del nuovo air 2s che è di imminente uscita ciao da big net ciao 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 ciao